Sanità all'ASP assume 70 medici a tempo indeterminato, pubblicato il bando. Nuove prospettive e opportunità di lavoro per la figura di dirigente medico presso l'azienda sanitaria provinciale di Siracusa. È stato pubblicato nella casetta ufficiale quarta serie speciale concorso ad esami del 12 aprile 2024. Il concorso pubblico indetto dall'ASP di Siracusa per la copertura a tempo indeterminato di 70 posti vacanti di dirigente medico delle seguenti discipline. Un posto di dirigente medico cardiologia, 4 gastroenterologia, 2 malattie infettive, 15 medicina di emergenza urgenza, 1 medicina interna, 1 per nefrologia, 3 per neonatologia, 1 per oncologia, 3 per pediatria, 11 posti per la psichiatria, 1 posto per la ginecologia e ostetricia, 2 per la oftalmologia, 3 posti per la anestesia e reanimazione, 5 per la radiodiagnostica, 3 per la igiene degli alimenti e nutrizione, e 3 per la medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, infine 11 posti di dirigente medico per la organizzazione dei servizi sanitari di base. Il test integrale del concorso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato all'albo dell'azienda sul sito internet aziendale. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella gazzetta ufficiale, cioè il 12 maggio. Questo bando, così come spiega il commissario straordinario Caltagirone, consentirà di colmare le attuali carenze dei dirigenti medici nelle diverse discipline, secondo quanto previsto nella pianta organica e nel rispetto del fabbisogno aziendale e del tetto di spesa assegnato. Il bando fa tesoro delle procedure di stabilizzazione in corso di definizione relativa a medici precari in possesso dei requisiti e dei concorsi già banditi, con le relative commissioni esaminatrici già nominato in corso di nomina, superando complessivamente le 250 unità. Le graduatorie in futuro potranno essere utilizzate a scorrimento per coprire eventuali mancanze di medici che dovessero verificarsi per collocamenti in pensione o per altre vacanze di organico per colmare nel tempo tutte le carenze degli organici.